Onorevole Angela Napoli, dopo la bomba di Limbadi, che si presume che sono stato imancuso a mettere questa bomba nell'auto di questo giovane, ecco lei più volte è stata anche minacciata da questa famiglia. Oggi lei come si sente? Ma io sinceramente da quando è successo l'episodio di Limbadi non riesco a dormire perché rivivo il terrore che ho vissuto proprio a causa delle minacce che sono arrivate da varie parti della famiglia Mancuso, perché poi va detto che anche rispetto a quest'ultimo episodio della bomba sotto la macchina a Limbadi gli inquirenti avranno il loro da fare per scoprire perché bisogna ricordare che la famiglia Mancuso non è unita, sono diversi filoni e purtroppo a suo tempo io ho vissuto un momento di grande grande difficoltà proprio per queste minacce anche perché sempre mi riferisco a quel periodo sotto la casa dove abitavo a Roma una sera è stata individuata una macchina che gli inquirenti hanno ritenuto fosse predisposta per essere obiettivo nei miei confronti. Quindi quando sento queste cose al di là della tragicità che credo ogni essere umano riviva nel momento in cui vede determinate immagini al di là della tragicità credo che non si possa davvero stare tranquilli io approfitto anche di questa opportunità che mi viene offerta per invitare, sollecitare le forze dell'ordine ma soprattutto la magistratura inquirente a prendere una buona volta di petto questa situazione giudiziaria di tutti questi filoni della famiglia Mancuso perché non è possibile che non ci sia il riconoscimento proprio della mafiosità di queste persone non è possibile che entrano ed escano dalle carceri non è possibile che soprattutto non si attenzionino e a mio avviso andrebbero molto attenzionate le nuove generazioni di queste famiglie perché credo che siano anche quelle che al di là della potenzialità in termini di possesso siano anche quelli più pericolosi perché gente priva di scrupoli. non c'è un altro sì sì mettiamo questa qua devo mettere la voce? no 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 questo mi serve come insert ti metto come insert quando dall'esterno leggendo la notizia non c'è un'altro Grazie.